In questo episodio vediamo, forse, uno dei concetti più importanti della programmazione oggetti del linguaggio Java, ossia l'ereditarietà. L'ineritance, o ereditarietà, è quel processo in cui una classe eredita gli attributi e i metodi di una classe superiore, quindi di un'altra classe. Ma facendo un esempio sicuramente capiamo meglio. Quindi per questo esempio io vado a creare una nuova classe, quindi come sempre tasto destro new class, che chiamo persona. Questa classe persona avrà una stringa, che è il nome, una string, cognome, un int, età, e poi avrà due metodi. Il primo è un void stampa info, in cui poi andremo a stampare le informazioni della persona, e poi un altro metodo, sempre void, che vado a chiamare cammina. All'interno del metodo cammina, semplicemente stampo un messaggio, quindi system.out.println, e il messaggio è stai camminando. Poi posso copiare questo output, lo incollo all'interno del metodo stampa info, e invece di stampare stai camminando, stampo nome, due punti, e stampo il nome. Più, concateno la stringa e cognome, e vado a stampare il cognome della persona. Infine, concateno l'ultima stringa, ossia l'età. Quindi questa classe persona ha tre attributi, due string e un numero intero, e due metodi. Oltre a questa classe, però, andiamo a creare altre due classi che erediteranno tutte queste informazioni della classe persona. Beh, innanzitutto andiamo a creare le due nuove classi, quindi new class. La prima la vado a chiamare studente, ecco qua la nostra classe studente, e poi vado a creare una nuova classe, che questa volta chiamo lavoratore. Su Java, per dire che una classe eredita da un'altra classe, si usa la keyword extents. In particolare, la keyword extents si specifica dopo il nome della classe, e si scrive il nome della classe da cui la classe corrente erediterà gli attributi e i metodi. Nel nostro caso persona, quindi public class studente, extents persona. Facciamo la stessa cosa nella classe lavoratore, quindi andiamo qui di fianco, extents, persona. Siccome queste due classi studente e lavoratore ereditano dalla classe persona, tutti gli attributi e metodi verranno incorporati all'interno di queste due nuove classi. Per verificare se ciò è vero, andiamo all'interno del main, creiamo un oggetto studente, che chiamo stu1, che è uguale a new studente. Se vado a scrivere stu1.cammina e avvio il programma, come vedete ci viene detto stai camminando. Nonostante all'interno della classe studente non esista nessun metodo cammina. Però, dato che questa classe studente è eredita da persona, questo metodo cammina che è presente all'interno della classe persona, viene creato anche all'interno della classe studente. E infatti è possibile richiamarlo da un oggetto studente. La stessa cosa è possibile farla da una classe lavoratore. Quindi io scrivo lavoratore, chiamo questo oggetto lavoratore1. Quando vado a richiamare il metodo cammina del lavoratore1 e avvio il programma, ovviamente ci viene stampato anche in questo caso stai camminando. Bene, ma cos'è la cosa figa dell'ereditarietà? La cosa interessante è che noi all'interno delle classi studenti e lavoratori possiamo definire più attributi e più metodi. Ad esempio, nella classe studente, vado a dichiarare un intero, che chiamo matricola, e poi una stringa, che chiamo classe. E magari anche un float, che è la media voti. Poi posso creare un metodo void, che chiamo stampavoti. All'interno del metodo stampavoti, semplicemente scriveremo system.out.println e stampiamo la media dei voti. Ovviamente, quando nel main richiamiamo quel metodo, quindi stu1.stampavoti, l'output che riceveremo è 0.0, perché di default un float ha come valore 0.0. Però, se avete notato, siamo stati in grado sia di richiamare il metodo stampavoti, che è stato definito all'interno della classe studente, ma anche il metodo cammina, che invece è stato definito nella classe madre persona. All'interno della classe lavoratore potremmo definire altri attributi totalmente differenti, ad esempio float stipendio, che è uguale a 1.500, e potrebbe avere anche un attributo per definire il tipo di lavoro. Quindi string lavoro, che è uguale ad esempio a operaio. Potremmo definire anche un metodo void, stampa lavoro, e quello che potremmo stampare all'interno di questo metodo è il mio lavoro da concateniamo il lavoro, più mi fa guadagnare e concateniamo lo stipendio. Quindi adesso, andando nel main, e richiamando il metodo lavoratore1.stampa lavoro, quando avviamo il programma, ecco qua che ci viene stampato il mio lavoro da operaio, mi fa guadagnare 1.500 euro. Ovviamente all'interno della classe studente potremmo valorizzare gli attributi. La media voti potremmo dire che è 7.5, la classe potrebbe essere seconda A, e la matricola potrebbe essere un numero, ad esempio, 9348. Quando avviamo il programma, vedete che ci viene stampata la media voti 7.5 e poi tutti gli altri messaggi. Quindi, ricapitolando, l'ereditarietà è quella caratteristica della programmazione oggetti che permette ad una classe di ereditare gli attributi e i metodi di un'altra classe. Nel nostro caso, la classe madre, diciamo, la classe genitore, l'abbiamo chiamata persona. Poi abbiamo creato due sottoclasse studente e lavoratore che ereditano da questa stessa classe persona. Quindi, sia studente che lavoratore, al loro interno avranno tutti i metodi e gli attributi della classe persona. Per qualsiasi dubbio domanda, lasciate un commento e noi ci vediamo nel prossimo video.